Ciao a tutti, benvenuti su MTG Pills by Magists of Lotus. Parliamo dell'Amoled of Ligor, una carta che è la base di uno degli archetipi più forti moderni in questo momento, che è Amoled Titan, e sta salendo, adesso si trova intorno ai 14 euro, 13 euro. È una carta che, se volete giocare col mazzo, dovete acquistare e in questo momento potrebbe essere il timing giusto per fare questo acquisto. Passiamo invece ai Pathway, che sono le terre modali, che da una parte danno un colore e dall'altra un altro. Quando le giocate dovete scegliere una delle due facce, stanno salendo tutte e quindi sono da acquistare in questo momento. Si giocano anche in Commander, quindi non sono solo da standard. Passiamo poi ad un altro consiglio, le comuni beta stanno ancora a un prezzo veramente basso, quindi sono un ottimo investimento a lungo termine. Ovviamente non potete vedere il guadagno in poco tempo, perché dovete aspettare almeno un paio d'anni, diciamo. Però si trovano a qualche euro, quindi sono da acquistare. Un saluto e un abbraccio dal mio giusto. Ciao! Ciao! Ciao!